si pronto si 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 più che altro postiamo su facebook però abbiamo anche un canale youtube abbiamo pochi iscritti lì si alla fine si bimbi minchia fondamentalmente no è che insomma noi alla fine consigliamo prodotti facciamo anche altre robe però io personalmente non mi faccio vedere in video si si ho le occhiaie le ho sempre avute no non vanno via da sole dormo la domenica tipo consigli si potrei provare non lo so si si potrei essere più più simpatico divertente però insomma ho capito che il target vabbè se vuoi provo faccio un video di prova vediamo come viene mi sembra un po una minchiata però sicuro vabbè ti mando qualcosa dai ok ciao 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 youtube sono i tommy j e vi mostrerò tanti bellissimi videogames che figata ragazzi è troppo divertente fare i video su youtube c'è troppo belli questi visori incredibile aiuto e ciao a tutti che ti viene fuori con la buona affa rinculo telecomando di merda e ciao a tutti sempre al contrario vabbè non se ne accorgeranno mai vaffanculo youtube ciao un buon Grazie a tutti.